Lasciamo ai candidati un minuto a testa come appello al voto. Partiamo da Perricci in ordine di istruzione. Sì, allora votate me, votate Vieni Oltre, votate più a Perricci perché non sono una politica, perché sono una cittadina, perché siamo il nuovo, perché ho sempre lottato per difendere i diritti delle fasce deboli dei cittadini, perché se avessi voluto mirare al posto avrei fatto qualche coalizione con dei partiti, perché sono l'unica indipendente e quindi farò solo l'interesse dei cittadini e perché questa Pesaro ha bisogno di rinnovarsi, perché basta con le stesse persone che stanno sulle stesse poltrone da oltre dieci anni, perché dobbiamo andare verso il futuro, perché abbiamo preso questa terra in prestito dai nostri figli e la dovremmo dare e restituire ai nostri figli in una maniera migliore. Quindi andate a votare, se siete disillusi dalla politica fate un voto di protesta, votate me, sono l'unico voto di protesta che potete fare perché non sono una politica, votate Vieni Oltre. Lanzi, andate a votare innanzitutto, è molto molto importante perché il diritto di voto è veramente un diritto dovere fondamentale per i cittadini, andatelo a esercitarlo anche sia una bella giornata, andateci per favore, è fondamentale perché è sicuro che anche a Pesaro dopo 78 anni la svolta può arrivare, si può veramente cambiare, dateci almeno questa possibilità, tanti cittadini, i pesalesi dicono ma tanto è sempre stato così, qua vince sempre il centro-sinistra, perché dobbiamo andare a votare? Abbiate fiducia, la svolta può arrivare, il cambiamento può arrivare e ripeto quello che è sempre ribadito, anche oggi ho visto una foto su Facebook dove già si presentava la futura giunta del centro-sinistra, io ribadisco invece con forza che non abbiamo assegnato alcun assessorato, che decideremo dopo a chi assegnare gli assessorati, ma esclusivamente sulla base delle competenze e delle specifiche capacità professionali. Oliva, io chiedo il voto per la nostra lista, per me candidato a sindaco, perché la nostra è la lista del fare, è una lista praticamente autonoma, non apartitica e noi cercheremo di fare le cose concrete, non fabbricheremo coriandole come dico sempre, non venderemo del fumo e non saremo effimeri, ma saremo concreti e inoltre voglio dire che questa volta c'è la possibilità di avere l'alternativa nella città, l'alternativa è la forza, l'alternanza in questo caso è la forza della democrazia, se c'è un'alternanza nella città gli amministratori che verranno eletti saranno stimolati a fare meglio perché sanno che la prossima legislatura potrà mai essere messa in discussione, quindi votate la nostra lista perché noi siamo la lista del fare e la lista della concretezza. Biancani? Io chiedo di votare ovviamente per il sottoscritto perché penso di avere una vera visione per la città del futuro, io vedo o immagino una città sicuramente più bella, una città più accogliente, una città più inclusiva, una città dove le persone abbiano il piacere di poter vivere, una città che sarà trasformata grazie alle tante cose, tanti investimenti che vorremmo portare e vorremmo mettere a terra nel nostro territorio, una città che non si dimentica degli ultimi, che sta vicino alle persone più fragili, ma anche una città che sa che deve crescere, che deve investire sul turismo, che deve investire sull'economia del nostro territorio, cioè sul settore agricolo, sulla manifattura, perché noi riteniamo che questa città deve continuare a crescere, ma crescere nell'ottica della sostenibilità e nell'ottica del fare sì che nessuno rimanga indietro. Io penso di essere la persona adatta, un candidato competente, concreto, che può dare la sua, può mettere a disposizione il suo valore aggiunto, un candidato che ha sempre dimostrato di sapere ascoltare i cittadini e di voler condividere quelle che sono le scelte principali con tutto il territorio e con tutti i cittadini.